E in questa giornata piovosa, sia dentro che fuori dallo schermo, ricominciamo con la nostra lettura di Harry Potter. Siamo oggi al capitolo 5, che è quello di Diagon Alley, che è anche l'ambientazione che vedete davanti a voi sullo schermo. Al mattino dopo, Harry si svegliò di buon'ora, finché si rendesse conto che era giorno fatto, tenne gli occhi ben chiusi. E' stato tutto un sogno, si disse con fermezza. Ho sognato che un gigante di nomi Hagrid è venuto a dirmi che avrei frequentato la scuola per maghi. Quando aprirò gli occhi, mi ritroverò a casa dentro uno scabuzzino. D'un tratto senti bussare forte. Ecco Gia Petunia che bussò la porta, pensò Harry, con il cuore che gli si faceva piccolo piccolo, ma continuò a tenere gli occhi chiusi. Era stato un sogno così bello. Toc, toc, toc. E va bene, borbottò Harry, mi sto alzando. Si mise seduto e il pesante pastrano di Hagrid gli cadde di rosso. La catapecchia era tutta illuminata dal sole, la bufera era passata. Hagrid, in carne e ossa, dormiva sul divano sfondato e un gufo raspava con gli artigli sulla finestra, tenendo un giornale nel becco. Harry scattò in piedi ed era talmente contento che si sentiva il giro come un palloncino. Andò alla finestra e la spalancò. Il gufo volò dentro e lasciò cadere il giornale su Hagrid e, poiché non si svegliava, cominciò a svolazzare sul pavimento, beccando il suo soprannito. Non fare così, cercò Harry, di scacciarlo con la mano, ma quello batte il becco con aria feroce e continuò a infierire sul mantello. Hagrid, disse aria voce alta, c'è un gufo. Pagalo, gruigni Hagrid al divano. Come? Bisogna pagarlo per la consiglia del giornale, guarda nelle tasche. Sembrava che il pastrano di Hagrid fosse... Sembrava che il pastrano di Hagrid fosse fatto soltanto di tasche, mazze di chiavi, proiettili per fiumda, gomitoli di spago, mentine, bustine di tè. Finalmente, Harry tirò fuori la manciata alle monete dell'aspetto strano. Dagli cinque zellini, disse Hagrid con voce assonnata. Zellini? I monetini di bronzo. Harry contò cinque piccole monete di bronzo e il gufo allungò la zampa per consentire di rimettere il denaro e un borsellino di cuoio che vi portava legato. Poi volò via dalla finestra aperta. Hagrid sbadigliò rumorosamente, si mise seduto e si stiracchiò. Meglio che andiamo, Harry. Abbiamo un sacco di cose da fare oggi. Dobbiamo arrivare a Londra e fare gli acquisti per la scuola. Harry si stava rigirando tra le mani le monete magiche e le osservava. Gli era appena venuto in mente un pensiero che lo fece sentire come se quel palloncino di felicità gli si fosse buccato. Ehm, Hagrid... Che cosa c'è? chiese Hagrid mentre si infilava gli enormi stivali. Io non ho soldi. Hai sentito Gioverno ieri sera? Lui non tirerà fuori una lira perché io frequenti la scuola di magia. Che ti preoccupi? mi spose Hagrid, alzandosi e grattandosi vigorosamente la testa. Pensi che i tuoi genitori non ti hanno lasciato niente? Ma se la loro casa è andata distrutta... Non tenevano mica loro in casa, ragazzo. Allora, prima fermata nella Gringot, la banca dei mani. Acchiappa una salsiccia. Freddo non sono niente male. Non mi dispiacerebbe neanche una fetta della tua torta di compleanno. Esistono banche dei maghi? Una sola, la Gringot. Sono i folletti che se ne occupano. Er lascia cadere il pezzo di salsiccia che aveva in mano. Folletti? Sì, e bisogna essere matti per tentare una rapina, te lo dico io. Con i folletti non si scherza. La Gringot è il posto più sicuro del mondo. Se vuoi mettere qualcosa al sicuro, tranne Hogwarts, forse. Ora che ci penso, alla Gringot ci devo andare in tutti i modi, per silente, questioni che riguardano Hogwarts. Hagrid gonfiò il pezzo tutto fiero. In genere lui mi manda a fare le sue commissioni importanti. Venire a prendere i tè, portarli certe cose dalla Gringot, sa che di me ci si può fidare. Capisci? Hai preso tutto? Allora andiamo, disse poi. Harry seguì Hagrid fuori, sullo scoglio. Ora il cielo era terzo e il mare luccicava sotto il sole. La barca che zio Vernon aveva preso in affitto era ancora lì, piena d'acqua, per via del temporale. Come hai fatto ad arrivare fin qui? chiese Harry, guardandosi intorno in cerca di un'altra barca. In volo, rispose Hagrid. In volo? Sì, ma per tornare indietro useremo questa. Ora che sono con te, non devo fare magie. Presero posto nella barca, ma Harry continuava a guardare Hagrid, cercando di immaginarlo volare. Che seccatura dover remare però, disse Hagrid, lanciando Harry un'altra delle sue chiate in tralice. Io cerco di fare un po' più in fretta. Ti va di non dire niente quando saremo a Hogwarts? Certo che sì, disse Harry, che non vedeva l'ora di assistere ad altre magie. Hagrid estrasse di nuovo l'ombrello rosa, lo batte due volte sulla fiancata della barca e partirono verso terra a tutta velocità. Perché ci sarebbe da essere matti ad organizzare una rapina alla Gringot? Chiese Harry. Magie, incantesi, mi disse Hagrid sfogliando il giornale mentre parlava. Dicono che a guardia delle telecamere blindate ci sono dei draghi e poi bisogna trovare la strada. Vedi, la Gringot si trova a centinaia di chilometri sotto Londra, molto chiuso della metropolitana. Anche se riesce a mettere le mani su un bel bottino, prima di rivedere la luce, fa in tempo a crepare di fame. Harry continuava a pensare a tutte queste cose, mentre Hagrid leggeva il giornale, la gazzetta del profeta. Jovernon gli aveva insegnato che alla gente piace essere lasciata in pace quando legge il giornale, ma era molto difficile farlo perché non gli si erano mai affollate in mente tante domande in vita sua. Il ministro della magia combina sempre i guai, come al solito, borbottò Hagrid girando la pagina. Esiste un ministero della magia? Chiese Harry, incapace di trattenersi. Certo, rispose Hagrid. Naturalmente come ministro volevano silente, ma lui non lascerebbe mai i hours. E così l'incarico è andato al vecchio corone di Uscaramel. È pasticcione come pochi, perciò tutte le mattine in truppa silente di guffi per chiedere consigli. Ma che cosa fa il ministero della magia? Beh, il compito più importante è non far sapere ai babbani che in giro per il paese ci sono ancora streghe maghi. E perché? Perché? Ma dai, Harry, perché tutti allora vogliono risolvere i loro problemi con la magia? No, è meglio che non ci mischiamo. In quel momento la barca urtò dolcemente la banchina del porto. Hagrid ripiegò il giornale ed entrambi risalirono alla scheletta di pietra che portava sulla strada. I passanti guardavano Hagrid con tanto d'occhi, mentre i due attraversavano la cittadina diretta alla stazione. Harry non sapeva dar loro torto. Non soltanto Hagrid era due volte più alto del normale, ma continuava ad additare cose del tutto comuni, come i parchimetri, dicendo ad alta voce, «Vedi, Harry, questa è roba che si inventano i babbani!» «Hagrid?» disse Harry, avvisse Harry, anzimando un poco mentre correva per tenerli dietro. «Mi dicevi che alla gringo ci sono i draghi?» «Beh, così dicono», rispose Hagrid. «Per bacco, mi piacerebbe tanto avere un drago». «Ah sì? Eh sì, lo desidero da quando ero piccolo. Ecco, vieni da questa parte, Harry». Avevano raggiunto la stazione. Il treno per Londra partiva da lì a cinque minuti. Hagrid, che non capiva i soldi dei babbani, come li chiamava lui, diede le banconote a Harry perché comprasse i biglietti. Se il treno la gente li scrutava più che mai. Hagrid occupava due posti a sedere e aveva preso sferruzzato quello che sembrava un tendone da cicco color giallo canarino. «Hai ancora una lettera, Harry?» chiese mentre contava le maglie. Harry tirò fuori dalla tasca la busta di pergamina. «Bene», disse Hagrid. «Di c'è un elenco di tutto quel che ti serve». Harry spiegò un secondo foglio, che la sera prima non aveva smutato, e lesse. «Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts». «Uniformi». Gli studenti del primo anno dovranno avere tre completi da lavoro in tinta unita, nero. Un cappello a punta in tinta unita, nero, da giorno. Un paio di guanti di protezione, un pelle di drago o simili. Un mantello invernale, nero con alamale d'argento. «NB», nota bene. Tutti gli indumenti degli allievi devono essere contrassegnati da una targhetta con il numero. «Libri di testo». Tutti gli allievi dovranno avere una copia dei seguenti testi. «Manuale degli incantesimi», volume primo, di Miranda Galla. «Storia della magia», di Batilda Bach. «Teoria della magia», di Adalbert Incant. «Guida pratica alla trasfigurazione per principianti», di Emerick Zott. «Mille erbe e funghi magici», di Philidia Spore. «Infuse e pozioni magiche», di Arsenius Brodius. «Gli animali fantastici, dove trovarli», di Newt Scamandro. «Le forze oscure, guida l'interpretazione», di Dante Tremante. «Altri accessori. Una bacchetta magica, un calderone in petro, misura standard 2, un set di provette di vetro o cristallo, un telescopio, una bilancia dottone. Gli allievi possono portare anche un gufo, oppure un gatto, oppure un rospo. Si ricorda ai genitori che agli allievi del primo anno non è consentito l'uso di manici di scopa personale. «Si può comprare tutto a Londra?», si chiese a voce alta a Harry. «Sì, se uno sa dove andare», rispose Hagrid. Harry non era mai stato a Londra. Per quanto fosse chiaro che Hagrid sapeva dove stava andando, era altrettanto ovvio che non era abituato a girare per la città come un comune mortale. Prima li aveva incastrati nei tornelli della metropolitana e si lamentava ad alta voce che i sedili delle vetture erano troppo piccoli e treni troppo lenti. «Non so proprio come fanno i babbani a lavarsela senza magia», disse mentre si arrampicavano sopra una scala mobile sfasciata che portava a una strada brulicante di raffico piena di negozi. Hagrid era così grosso che riusciva facilmente a tendere la folla. Quanto a Harry bastava che gli si tenesse alla calcagna. Passarono davanti a negozi di libri di musica, a fast food e cinema, ma in nessuno pareva si vendessero bacchette magiche. Era una strada qualsiasi, piena di gente qualsiasi. Possibile che, sepolti sotto i loro piedi, si nascondessero mucchi d'oro appartenenti ai maghi? Possibile che esistessero negozi dove si vendevano libri di incantesimi e manici di scopa? Non poteva essere una burla monumentale architettata dai Dursley? Se Harry non avesse saputo che i Dursley erano privi del deco e minimo senso dell'umorismo, ci avrebbe quasi creduto. Eppure, per quanto incredibile gli sembrasse tutto quel che Hagrid aveva raccontato fino a quel momento, Harry non riusciva a non fidarsi di lui. «Eccoci arrivati!» disse Hagrid fermandosi. «Un paiolo magico, un posto famoso!» Era un piccolo pub, dall'aspetto surdido. Se Hagrid non glielo avesse indicato, Harry non ci avrebbe neanche fatto caso. I passanti frettolosi non gli gettavano neanche un'occhiata. Gli sguardi andavano alla grossa libreria su un lato della strada, il negozio di dischi sull'altro, come se per loro il paiolo magico fosse invisibile. E infatti Harry aveva la stranissima sensazione che solo lui e Hagrid lo vedessero. Prima che potesse dire una parola, Hagrid lo aveva spinto dentro. Per essere un posto famoso, il paiolo magico era molto buio e dismesso. Alcune vecchie erano sedute in un angolo e sorseggiavano un bicchierino di sherry. Una di loro fumava una lunga pipa. Un uomino col cappello a cilindro stava parlando al vecchio barman completamente caldo, che sembrava una noce di gomma. Il sordo brusio della conversazione si arrestò all'ingresso. Sembrava che tutti conoscessero Hagrid. Lo salutarono, gli sorrissero e il barman prese un bicchiere dicendo «Il solito Hagrid?» «Non posso, Tom, sono in servizio per Hogwarts», disse il gigante, dando una grossa pacca con la manonna sulla spalla di Harry, al quale si piegarono le ginocchia. «Oh, Dio!» esclamò il barman scrutando Harry. «Questo è... non sarà mica...» Nel locale cadde d'un tratto il silenzio. Tutti si immobilizzarono. «Mi venisse un colpo!» sussurrò con un filo di voce il vecchio barman. «Ma Harry Potter, quale onore!» Uscì di corsa da dietro il bancone, si precipitò verso Harry e gli afferrò la mano con le lacrime agli occhi. «Bentornato, Mr. Potter, bentornato!» Harry non sapeva che cosa dire. Tutti lo guardavano. La vecchia continuava a dar tirata alla pipa senza accorgersi che si era spenta. Hagrid era raggiante. Ci fu un grande trameschio di sedie e subito dopo Harry si trovò a stringere la mano di tutti i presenti. «Sono Doris Crackford, Mr. Potter. Non riesco a crederci. Finalmente la conosco. Sono così orgoglioso, Mr. Potter. Veramente orgoglioso. Io ho sempre desiderato stringerle la mano. Sono così agitato. Oh, Mr. Potter. Non so dirle quanto piacere mi fa conoscerla. Mi chiamo Lux. Dedalus Lux. Ma io la conosco, disse Harry, mentre Dedalus Lux cadeva il cappello a cilindro per l'emozione. Lei una volta mi ha fatto l'inchino in un negozio. «Se ne ricorda?» Grida Lomino guardando tutti uno a uno. «Avete sentito? Si ricorda di me!» Harry strisse mani a non finire. Doris Crackford non la smetteva più di tornare a porgergli la sua. Si fece largo un giovanotto pallido dall'aria molto nervosa. Aveva un tic a un occhio. «Professor Raptor!» disse Hagrid. «Harry, il professore sarà uno dei tuoi insegnanti a Ors. A Ors. P-P-P-P-Potter! balbettò il professor Raptor afferrando la mano di Harry. Non so dirle quanto sono felice di conoscerla». «Che tipo di magia insegnano il professor Raptor?» Difesa contro le arti oscure. Balbettò Raptor come se avesse preferito non saperla. «Non che a lei si serva, eh? Potter?» e riso nervosamente. «Suppongo che starà rifornendosi di tutto quel che le serve, non è vero, Potter? Io devo prendere un nuovo libro sui vampiri?» Appariva terrorizzato al solo pensiero. Ma gli altri non gli permisero di accapparrarsi Harry tutto per sé. Ci valerò almeno dieci minuti per liberarsi di tutti. Finalmente Hagrid riuscì a far udire al di sopra del cicaleccio. «Ora dobbiamo andare!» «Un mucchio di acquisti da fare!» «Sbrigati, Harry!» Doris Crockford strinse l'ultima volta la mano a Harry e Hagrid gli fece strada attraverso il bar. Uscirono in un piccolo cortile circondato da un mur dove non c'era altro che un bidone della spazzatura e qualche abaccia. Hagrid sorrise a Harry. «Te l'avevo detto, no?» «Te l'avevo detto che eri famoso!» «Anche il professor Raptor tremava tutto quando ha fatto la tua conoscenza!» «Ma che anche per lui trenare è un po' normale!» «Sempre così nervoso?» «Oh sì, povero diabolo!» «Una mente geniale!» «Stato benissimo fino a che è studiato sui libri!» «Ma poi si è preso un anno di congedo per andare a fare qualche esperienza sul campo!» Dicono che nella foresta nera ha incontrato i vampiri e che c'è anche stata una brutta storia con una strega. Da allora non è più lo stesso. Lo spaventano gli studenti, lo spaventa la sua stessa materia. Ma vediamo un po'. «Tov'è finito il mio ombrello?» Vampiri, streghe. Harry girava la testa. Nel frattempo, Hagrid stava contando i mattoni sul muro sopra il bidone della spazzatura. Tre verticali, due orizzontali, boffonchiava. «Bene, sta indietro, Harry!» Battè sul muro tre volte con la punta dell'ombrello. Il mattone che aveva colpito fibrò. Si contorse. Al centro apparve un piccolo buco. Si fece sempre più grande. E un attimo dopo si trovarono di fronte a un arco abbastanza largo da far passare Hagrid. L'arco dava su una strada selciata, tutta curva, di cui non si vedeva la fine. «Benvenuto a Diagon Alley!» disse Hagrid. Sorrise allo stupore di Harry. Attraversarono l'arco. Harry giottò una rapida occhiata alle sue spalle e vide l'arco rimpicciolirsi, ridiventando un muro compatto. Il sole splendeva, illuminando una pila di calderoni fuori dal negozio più vicino. Un insegno appeso sopra diceva «Calderoni, tutte le dimensioni, rame, ottone, peltro, argento, autorimestanti, pieghevoli!» «Ce ne servirà uno!» disse Hagrid, «Ma prima dobbiamo andare a prenderci i soldi!» Harry avrebbe voluto avere altre quattro paia di occhi. Strada facendo, si girava di qua e di là nel tentativo di vedere tutto. E subito, i negozi, le cose esposte all'esterno, la gente che faceva le spese. Mentre passavano, una donna grassottella, appena uscita da una farmacia, scuteva la testa commentando «Fegato di drago, diciassette falci letto!» «Roba da matti!» Da un negozio buio, la consegna diceva «Emporio del gufo», gufi selvatici, barbagianni, gufi da granaio, gufi bruni, civette bianche, si odiva a provenire un richiamo basso e soffocato. Molti ragazzi, più o meno dell'età di Harry, tenevano il naso schiacciato contro la vetrina, dove erano esposti dei manici di scopa. «Guarda!» Harry sentì dire uno di loro. «Il Nimbus 2000! Più veloce di tutti!» Alcuni negozi vendevano abiti, altri telescopi, bizzari strumenti d'argento che Harry non aveva mai visto prima. C'erano venti... guarda!» Harry sentì dire uno di loro. «Il Nimbus 2000! Più veloce di tutti!» Alcuni negozi vendevano abiti, altri telescopi e bizzari strumenti d'argento. Harry non aveva mai visto prima. c'erano vetrine stipate di barili impilati contenenti milza di pipistrelle, pupille d'anguilla, bucchi pericolanti di libri di incantesimi, penne d'oca e rotoli di pergamena, bottiglie di porzioni, globi lunari. «Ecco la Gringot!» disse Hagrid a un certo punto. Erano giunti a un edificio bianco come la neve che svettava sopra le piccole botteghe, ritto in piedi, dietro un portale di bronzo brunito, con indosso l'uniforme scarlatta e oro. C'era proprio così quel nuovo folletto disse Hagrid tutto tranquillo mentre salivano gli scalini di candi da pietra diretti verso di lui. Il folletto era più basso di Harry e di quasi tutta la testa. Aveva un viso del colorito scuro e dall'aria intelligente, una barba punta e, come Harry poteva notare, ditte a piedi molto lunghi. Si inchinò al loro passaggio. Ora si trovavano di fronte a una seconda porta, questa volta d'argento, su cui erano incise le seguenti parole. Straniero, entra, ma tieni in gran conto quel che ti aspetta se sarai ingordo, perché chi prende ma non guadagna pagherà cara la magagna. Quindi, se cerchi nel sotterraneo un tesoro che ti è straneo, ladro avvisato, mezzo salvato, più del tesoro non va cercato. Come ho detto, bisognerebbe davvero essere fatti a cercare di rapinare questa banca, disse Hagrid. Quando attraversarono la porta d'argento, una cotta di folletti si inchinò davanti a loro e li introdusse in un grande salone marmoreo. Un centinaio di altri folletti, seduti su alti scranni dietro un lungo balcone, scribacchiavano su grandi libri mastri, pensavano le monete su bilancio di bronce ed esaminavano pietre preziose con la lente. Le porte erano troppo numerose per poterle contare e altri folletti erano occupati ad aprire e richiudere per far entrare e uscire le persone. Hagrid e Harry si avvicinaranno al bancone. Salve, disse Hagrid a un folletto che in quel momento era libero. Siamo venuti a prendere un po' di soldi dalla cassaforte dei Mr. Harry Potter. Avete la chiave, signore? Devo averla da qualche parte, fece Hagrid cominciando a svuotare le tasche sul banco e sparpagliando sul libro contabile del folletto una manciata di biscotti abbuffiti per cani. Il folletto storse il naso. Harry intanto osservava un altro folletto all'olio destra pesare un mucchio di rubini grossi come tizioni accesi. Eccola qui, disse finalmente Hagrid che aveva in mano una piccola chiave d'oro. Il folletto lo osserva da vicino. Sembra che vada bene. E qui ho ancora una lettera del professor Silente, disse Hagrid col petto in fuori, ostettando un'aria di importanza riguarda il lei sa cosa della camera blindata a 713. Il folletto lesse attentamente la lettera. Molto bene, disse restituendola ad Hagrid. Qualcuno vi accompagnerà in entrambe le camere blindate. Unci, unci, chiamò. Arrivò un folletto diverso. Hagrid ripose tutti i biscotti per cani nelle tasche del suo pastrano e insieme a Harry seguì unci, unci, verso una delle porte di uscita della sala. Che cos'è il lei sa cosa della camera blindata 713? Che cos'è Harry? Questo non te lo posso dire, rispose Harry il confano misterioso. È una cosa segretissima. Accende di Hogwarts, silento e mi ha dato fiducia. Non è nei miei compiti dirtelo. Unci, unci, tende la porta aperta per farli passare. Harry, che si era aspettato di vedere altro marmo, resta sorpreso. Si trovava in uno stretto passaggio di pietra illuminato da ciò torce. scendeva ripido e scocceso e per terra correva nei minari di una piccola ferrovia. Unci, unci, fischiò. Il piccolo carrello arrivò sferragliando verso di loro. Salirono a bordo, Hagrid con una certa difficoltà e partirono. Da principio percorsero un dedalo di passaggi tortuosi. Harry cercava di tenere a mente sinistra, destra, sinistra, vivere in mezzo, destra, sinistra, ma era impossibile. Il carrello sferragliante sembrava conoscere da solo la strada, perché unci, unci non manovrava. Harry bruciavano gli occhi per via dell'aria fredda che gli sferzava in faccia, ma li tende ben aperti. A un certo punto pensò di aver visto una fiammata in fondo a un passaggio e si girò per vedere se era un drago, ma troppo tardi. Scesero ancora più giù, superando un lago sotterraneo dove dal soffitto del pavimento spuntavano enormi stalattiti e stalagmiti. Non mi ricordo mai che differenza c'è fra stalagmiti e stalattiti, gridò Harry e a grido, cercando di sovrastare al suolo del carrello. Stalagmiti hanno la M, disse Hagrid, e non mi fare domande in questo momento, credo che sto per sentirmi male. Infatti aveva un colorito verde e quando scese, dopo che il carrello si fu finalmente fermato accanto a una porticina sul muro di comunicazione, dovette appoggiarsi alla parete per farsi passarla a tremare le gambe. Unci, 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 fece scappare la serratura della porta. Ne fu riuscita un ube di fumo verde e, quando si fu dissipata, Harry rimase senza fiato. Dentro c'erano montagne di monete d'oro, cumuli d'argento, mucchi di piccoli zellini di bronzo. Tutto tu, disse Hagrid con un sorriso, tutto suo. Era incredibile. I Dursley non dovevano saperne niente, altrimenti lo avrebbero immediatamente costretto a dare tutto a loro. Quante volte si erano lamentati di quel che gli costava mantenerlo e pensare che sepolta nelle viscere di Londra c'era da sempre una piccola fortuna che gli apparteneva. Hagrid aiutò Harry a raccogliere un po' di quel bendigio in una borsa. Quelli dopo sono galeoni, spiegò. 17 falci d'argento fanno un galeone e 29 zellini fanno una falci. Facilissimo, no? Bene, questo dovrebbe bastare per un paio di trimestri. Il resto te lo terremo da conto. Si rivolse a un c-unci e ora alla camera blindata 713 per favore che si potrebbe magari andare un pochino più piano? A una marcia sola rispose un c-unci. Stavolta scesero ancora più giù guadagnando velocità. A ognuna delle strettissime curve l'aria si faceva più fredda. Oltrepassarono un burrone sotterraneo Harry si sporse fuori per cercare di vedere quel che c'era nel fondo immerso nell'oscurità ma Hagrid con un roggito lo tirò dentro afferrandolo per la collottola. La camera blindata 713 non era una serratura. State indietro disse a un c-unci da ammusionare l'importanza. Colpì leggermente la porta con un dito lunghissimo e quella semplicemente scontarono. Se chiunque non sia un po' il letto della griglia trovasse a farlo avrebbe risocchiato attraverso la porta e rimarrebbe prigioniero dentro disse a un c-unci. Ogni quanto tempo controllate se dentro c'è qualcuno chiese Harry circa ogni dieci anni gli spose un c-unci con un sorriso che pareva un ghigno. Dentro quella camera blindata di massima sicurezza doveva esserci qualcosa di veramente straordinario. Harry nera certo così si sporse in avanti in pieno di curiosità aspettandosi di vedere come minimo gioielli favolosi ma in un primo momento pensò che fosse vuota poi notò sul pavimento un fagotto tutto sporco avvolto in carta da pacchi Hagrid lo raccolse e lo ripose accuratamente nel suo pastrano Harry non vedeva l'ora di sapere che cosa fosse ma sentiva che era meglio non chiedere andiamo su risaliamo su quel dannato carrello e non rivolgermi la parola finché non siamo arrivati va meglio se tengo la bocca chiusa disse Hagrid dopo la pazza corso di ritorno rimasero un poco a sbattere le palpebre accecati dalla luce del sole anche se ora aveva una borsa piena zeppa di soldi Harry non sapeva da dove iniziare a fare i suoi acquisti non aveva bisogno non aveva bisogno di sapere quanti galeoni entravano in una sterlina per capire che risponeva di più denaro di quanto non ne avesse mai avuto in vita sua più di quanto non ne avesse mai avuto lo stesso Dudley potremmo andare per la tua uniforme disse Hagrid accennando con la testa al negozio di madama McLan abiti per tutte le occasioni senti Harry ti dispiacerebbe se facessi un salto al paghioro magico a bere un cordiale detesto coi carrelli della Gringot aveva ancora l'aria un po' sbattuta e quindi Harry entrò da sola nel negozio di madama McLan con un certo nervosismo madama McLan era una strega tarchiata sorridente tutta vestita di color malva oh words caro chiese quando Harry cominciò a parlare ho qui tutto l'occorrente di là c'è un altro giovanotto che sta provando l'uniforme nel retro del negozio il ragazzino dal viso pallido appuntito stava rito su uno sgabello mentre un'altra strega gli appuntava con gli spilli il frollo di una lunga tunica nera madama McLan fece salire Harry su un altro sgabello vicino al primo infilò anche lui nella lunga veste della testa e cominciò ad appuntarlo per farla della stessa lunghezza ciao disse il ragazzo anche tu oh words si rispose Harry mio padre nel negozio qui accanto mi sta comprando i libri e mia madre sta guardando le bacchette magiche un po' più avanti disse il ragazzo avevo una voce annoiata e strascicata dopo li trascinerò via per andare a vedere le scope da corsa non capisco proprio perché noi del primo anno non possiamo averne di personali penso che costringerà mio padre a comprarmene una e la porterò dentro di straforo in un modo o in un altro a Harry quel bambino ricordò molto Dudley e tu ce l'hai un manico di scopa tuo proseguì il ragazzo no disse Harry sai giocare a qui dici no rispose di nuovo Harry chiedendosi in cuor suo di che cosa mai stesse parlando io sì papà dice che sarebbe un delitto se non mi scegliesero per far parte della squadra nel mio dormitorio e devo dire che sono proprio d'accordo tu sei già in quale dormitorio andrei a stare no rispose Harry sentendoti sempre più stupido ogni minuto che passava beh nessuno lo sa veramente finché non si trova sul posto non è vero ma io so che starò a serpe verde tutta la nostra famiglia è stata lì pensa ritrovarsi a tasso rosso io credo che me ne andrei e tu rispose Harry rammaricandosi di non riuscire a dire niente di più interessante ehi guarda quello disse di un tratto il ragazzo indicando con un cianino del capo la vetrina principale Hagrid era lì ritto in piedi sorridendo a Harry e indicando due grossi gelati per farli capire che non poteva entrare quello è Agri disse Harry tutto contento di sapere qualcosa che il ragazzo ignorava lavora a Waltz oh disse il ragazzo l'ho sentito nominare una specie di inserviente vero? il guardia caccia ribatte Harry ogni attimo che passava quel ragazzino gli stava sempre meno simpatico sì proprio così ho sentito dire che è una specie di selvaggio vivere una capanna nel comprensere della scuola ogni tanto si ubriaca cerca di fare delle magie e finisce con l'appiccare il fuoco al suo letto secondo me invece è geniale commentò Harry in tono gilido davvero? disse il ragazzo come un lieve verso un chigno ma perché sei con lui? dove sono i tuoi genitori? sono morti tagliò corto Harry non si sentiva molto in vena di approfondire l'argomento con quel ragazzo oh scusa disse l'altro senza mostrare il minimo di increscimento ma erano come noi? erano una strega e un mago se è questo che intendi io non penso che dovrebbero permettere agli altri di frequentare non trovi? loro non sono come noi non sono capaci di fare quello che facciamo noi pensa che alcuni quando hanno ricevuto la lettera non avevano mai neanche sentito parlare di Hogwarts secondo me dovrebbero limitare la frequenza alle più antiche famiglie di stregoni a proposito tu come ti chiami di cognome? ma prima che Harry avesse il tempo di rispondere madama McLan disse ecco fatto mio caro Harry tutt'altro che spiacente di avere una scusa per interrompere la conversazione con il ragazzo salto giù dallo sgabello bene penso che ci rivedremo a Hogwarts si congeda il ragazzo sempre con la stessa parlata lenta e strascicata Harry gustò in silenzio il gelato che Hagrid gli aveva comperato cioccolato e lamponi con granella di noccioline cosa c'è? chiese Hagrid niente mentì Harry si fermarono per acquistare pergamene e penne bottiglia di inchiostro che scrivendo cambiava colore una volta fuori dal negozio chiese Hagrid ma che cos'è il quidditch? per tutti i gargoyle Harry continuò a dimenticare quanto poco sai certo che non conoscerai il quidditch non farmi sentire ancora più ad esagio lo pregò Harry e raccontò Hagrid il ragazzino pallido che aveva incontrato nel negozio di madama McLan e ha detto che ai ragazzi cresciuti in famiglia di babbani non dovrebbe essere permesso di frequentare ma tu non vieni dalla famiglia di babbani se sapevano chi sei conosci il tuo nome da quando è nato se i suoi genitori sono gente che pratica la stregoneria le hai viste al paiolo magico in ogni caso ha un bel dire il ragazzo alcuni tra i migliori erano gli unici dotati di poteri magici in una lunga stirpe di babbani prendiamo il caso di tua madre guarda che razza di sorella aveva allora che cos'ha il quidditch il nostro sport lo sport dei maghi come il calcio nel mondo dei babbani tutti seguono il quidditch si gioca in aria cavalcando manici di scopa e con quattro palle difficile sfigare le regole e che cosa sono serpe verde e tasto rosso sono dormitori a Hogwarts ce ne sono quattro tutti dicono che quelli di tasto rosso sono un branco di mollaccioni ma scommetto che io finisco a tasto rosso disse Harry tristemente meglio tasto rosso che serpe verde disse Hagrid cupo tutti i maghi e le streghe che hanno fatto una brutta fila sono stati a serpe verde tu sai chi era uno di loro Vold oh scusa tu sai chi è stato a Hogwarts tanti anni fa disse Hagrid comprare nei libri di testo per Harry in un negozio chiamato il Girigord dove gli scaffali erano stipati fino al soffitto di libri grossi come nastroni di pietra e relegati in pelle libri delle dimensioni di un franco bullo foderati in seta libri pieni di simboli strani e alcuni con le pagine bianche anche Dudley che non leggeva mai niente avrebbe fatto pazzie per metterci le mani sopra Hagrid dovette quasi trascinare gli aerei da maledizioni e contro maledizioni stregate gli amici e confondete i nemici con l'ultimo grido delle vendette caduta dei capelli gambe di ricotta lingua legata e molte altre ancora del professor Vindictus Viridia stavo cercando di scoprire come fare un soltireggio a Dudley non dico che non è una buona idea ma nel mondo dei babbani non devi usare la magia che in circostanze speciali disse Hagrid e in tutti i modi ancora non puoi riuscire a vendicarti in nessuna maniera devi studiare molto di più per arrivare a quel punto Hagrid non permise Harry neanche di comprare un calderone d'oro massiccio nella lista c'è scritto di peltro ma questa era una graziosa bilancia per pesare gli ingredienti delle pozioni e un telescopio pieghevole in ottone poi andranno in farmacia luogo talmente interessante da ripiegare del pessimo odore che vi regnava di misto di uova fradice e cavo di marci per terra c'erano barili di roba viscida base di erbe officinali radici secche e polveri dei colori brillanti erano allineati lungo le pareti fasci di piume di zanne e artigli aggrovillati pendevano dal soffitto mentre Hagrid chiedeva all'uomo dietro il bancone una provvista di alcuni ingredienti fondamentali per preparare le pozioni Harry esaminava alcuni corni di unicorno in argento che costavano 21 galeoni ciascuno e minuscoli occhi di coleotero di un nero lucente a 5 zellini e la manisciata una volta fuori dalla farmacia Hagrid spuntò di nuovo la lista di Harry rimasta la bacchetta e non ti ha ancora preso il regalo di compleanno Harry e Rossi ma non devi lo so che non devo ecco che cosa farò ti regalerò un animale non un rospo i rospi sono passati di moda anni fa ti riderebbero dietro i gatti non mi piacciono mi fanno starnutire ti prenderò un gufo tutti i ragazzini vogliono i gufi sono assai utili li portano alla posta e tutto il resto 20 minuti dopo uscivano dall'emporio del gufo un locale buio pieno di animali che raspavano e frullavano in aria con gli occhi luccicanti come gemme preziose ora Harry trasportava una grossa gabbia che conteneva una bella civetta bianca come la neve profondamente addormentata con la testa sotto l'ala non riusciva a smettere di malbettare ringraziamenti tanto che sembrava il professor Raptor ma di niente rispondeva Hagrid non credo che Darsley ti hanno mai fatto molti regali e ora ci rimane solo Ollivander è l'unico posto per comprare una barchetta magica vai da Ollivander e avrai il meglio parlando di barchette barchette magiche Harry non vedeva l'ora di possederne una quest'ultimo negozio è angusto e sporco un insegnalettere d'oro scortecciata sopra la porta diceva Ollivander fabbrica di bacchette di qualità superiore dal 382 avanti Cristo nella vetrina polverosa su un cuscino con l'aeroporto la stint era esposta una sola bacchetta un lieve scampanellino proveniente dagli affranti del negozio non meglio identificati accolse l'oreno l'esso è un luogo molto piccolo vuoto tranne che per una sedia dalle zampe esili su cui Hagrid si sedette nell'attesa Harry si sentiva strano come se fosse entrato in una biblioteca privata si rimangiò un bucchio di nuove domande che gli erano appena venute in mente e invece si inizia a guardare le migliaia di scatoline strette strette tutte impilate in bell'ordine sino al soffitto chissà perché si sentiva un pizzicurino alla nuca persino la polvere e il silenzio di quel luogo sembravano fremere di una segreta magia buon pomeriggio disse una voce sommessa Harry fece un balzo e lo stesso dovette fare Hagrid perché si sentì un forte scricchionino e lui si è fretta ad alzarsi dalla sedia avevano di fronte un uomo anziano con occhi grandi e scoloriti che illuminavano la penombra del negozio come due astre in un'aria salve disse Harry imbarazzato ah sì disse l'uomo sì sì ero sicuro che l'avrei conoscito presto Harry Potter non era una domanda agli occhi di tua madre sembra ieri che è venuta qui a comprare la sua prima bacchetta magica lunga dieci pollici e un quarto similante di salice una bella bacchetta per un lavoro d'incanto mister Ollivander si avvicinò a Harry quest'ultimo avrebbe dato chissà che cosa per vedergli abbassare le palpebre quegli occhi di argento gli facevano avvenire la pelle d'oca suo padre invece preferì una bacchetta di mogano undici pollici flessibile un po' più potente l'ottima per la trasfigurazione beh ho detto che suo padre l'aveva la preferita ma in realtà la bacchetta sceglie del mago naturalmente mister Ollivander si era fatto talmente vicino da toccare quasi il naso di Harry che si vedeva riflesso in quegli occhi velati ed è qui che mister Ollivander toccò con un dito lungo e bianco la cicatrice a forma di saetta sulla fronte di Harry mi spiace dire che sono stato io a vendere la bacchetta che ha fatto questo disse con un filo di voce 13 pollici e mezzo sì una bacchetta potente molto potente nelle mani sbagliate bene se avessi saputo che cosa sarebbe stata andata a fare cosa sarebbe andata a fare per il mondo scosse la testa e poi con grande sollievo di Harry si accorse di Averis di Averis Rubeus Rubeus Averis che piacere di vederti quercia 16 pollici piuttosto flessibili non era così? azzeccato signore disse Averis una bella bacchetta quella ma suppongo che l'abbiano spezzata a metà quando ti hanno espulso vero? chiese mister Ollivander facendosi serio ad un tratto sì signore proprio così rispose Averis spostando il peso del corpo da un piede all'altro però conserva ancora le due metà aggiunse vivacemente ma non le usi vero? chiese mister Ollivander con fare inquisitorio oh no signore si ha fretto a rispondere Averis Harry notò che nel parlare si stringeva forte forte al suo ombrello rosa vediamo disse mister Ollivander lanciando Averis un'occhiata penetrante allora mister Potter vediamo un po' e tiro fuori dalla tasca un lungo metro al nastro con le tacche d'argento qual è il braccio con cui usi la bacchetta signore uso la mano destra rispose Harry alzi il braccio così misurò il braccio di Harry dalla spalla alla punta delle dita poi dal polso al gomito dalla spalla a terra dal ginocchio alla ascella e poi prese anche la circonferenza della testa e intanto diceva ogni bacchetta costruita da Ollivander ha il nucleo fatto di una potente sostanza magica mister Potter usiamo peli di unicorno penne della coda della fenice e corde del cuore dei draghi non esistono due bacchette costruite da Ollivander che siano uguali così come esistono due unicorni due draghi o due fenici del tutto identici e naturalmente non si ottengono mai risultati altrettanto buoni con la barchetta di un altro umano all'improvviso Harry si accorse che il metro a nastro che stava misurando la distanza tra le narici stava facendo tutto da solo mister Livander infatti volteggiava tra gli scaffali tirando giù scapole può bastare così disse e il metro a nastro si afflosciò sul pavimento allora mister Potter provi questa legno di faggio e corde di cuore di drago nove pollici bella flessibile la prende e la agiti in aria Harry prese la bacchetta e sentendosi un po' sciocco la agitò debolmente ma mister Livander gliela strappò quasi subito di mano acero e piume di fenice sette pollici molto flessibile la provi? Harry la provò ma ancora una volta non aveva fatto in tempo ad alzarla che mister Livander gli strappò di mano anche quella no no ecco ibaro e peli di unicorno otto pollici e mezzo elastica avanti avanti la provi Harry provò provò ancora non aveva idea che cosa cercasse mister Livander le bacchette si stavano ammucchiando sulla sedia ma più mister Livander le tirava fuori dagli scaffali più sembrava felice un cliente difficile eh? no niente paura troveremo quella che va a pennello ora mi chiedo sì perché no combinazione insolita agrifoglio e piume di finice 11 pollici ben afflessibile Harry la prese in mano avvertì un calore improvviso alle dita l'alzò sopra la testa l'abbassò sferzando l'aria polverosa e una scia di scintille rosse ed oro si sprigionò dall'estremità come un fuoco d'artificio proiettando sulle pareti minuscole i riflessi danzanti di luce Hagrid gridò d'entusiasmo e batte le mani e mister Livander esclamò bravo sì proprio così molto bene 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 che strano ma che cosa davvero strana rimise la bacchetta di Harry in una scatola e l'avvolse in carta da pacchi sempre borbottando ma che strano davvero strano scusi fece Harry ma cosa c'è di strano mister Livander lo fissò con i suoi occhi sviariti ricordo una per una tutte le bacchette che ho venduto mister Potten una per una si dà il caso che la felice dalla cui coda proviene la piuma della sua bacchetta abbia prodotto un'altra piuma una sola è veramente molto strano che lei sia destinata a questa bacchetta visto che la sua gemella sì la sua gemella le ha procurato quella ferita Harry de Glutti sì 13 pollici e mezzo legno di tasso curioso come accadono queste cose la bacchetta che sceglie il mago lo ricordi credo che da lei dobbiamo aspettarci grandi cose mister Potter dopo tutto colui che non deve essere nominato ha fatto grandi cose terribili è vero ma grandi Harry da brevidì non era certo di trovare molto simpatico quel mister Ollivander pagò sette galeoni d'oro per la sua bacchetta e mentre uscivano mister Ollivander li salutò con un inchino da dentro il negozio era ormai pomeriggio avanzato il sole era basso sull'orizzonte quando Harry e Hagrid si misero sulla via del ritorno ripercorrendo la diagonale li attraversarono nel muro fino al paio magico ormai deserto lungo il tragitto Harry non disse una parola non notò nemmeno quanta gente li guardasse a bocca aperta in metropolitana carichi come erano in tutti quei pacchi delle forme bizzarre e con la civetta candida addormentata sulle ginocchia su per un'altra scala mobile fuori di nuovo giù verso Paddington Station Harry si rese conto di dove si trovavano soltanto quando Hagrid gli batte sulla spalla abbiamo il tempo di mangiare un boccone prima che il tuo treno parte disse gli comperò un hamburger e si sedetterà a mangiare su panchini di plastica Harry continuava a guardarsi intorno in un certo senso tutto aveva un'aria molto strana ti senti bene? ti senti bene Harry? sei molto zitto disse Hagrid Harry non era sicuro di riuscire a spiegarsi quello era stato il più bel compleanno della sua vita eppure continuava a mangiare il suo hamburger cercando di trovare le parole tutti pensano che io sia speciale disse infine tutte quelle persone del paiono magico il professor Raptor il mister Ollivander ma io di magia non ne so niente come fanno ad aspettarsi grandi cose? sono famoso ma non ricordo neanche il motivo per cui sono famoso non so cosa è successo quando vol scusa voglio dire la notte che i miei genitori sono morti Hagrid si china verso di lui dietro la barba incolta e le fortite sopracciglia faceva capolino un sorriso pieno di gentilezza non preoccuparti Harry imparerai presto a Hogwarts tutti i principianti sono uguali starei benone basta che sei te stesso lo so che è dura tu sei un prescelto e questo fa sempre la vita difficile ma starei benissimo Hogwarts così è stato per me e lo è ancora davvero Hagrid aiutò il ragazzo a salire sul treno che lo avrebbe riportato dai Dursley e poi gli porse una busta questo è il biglietto per Hogwarts disse primo settembre King's Cross è tutto scritto su biglietto se hai problemi con i Dursley spedisci una lettera con la tua civetta lei saprà dove trovarmi a presto Harry il treno uscì dalla stazione Harry avrebbe voluto seguire Hagrid con lo sguardo fin quando non l'avesse perso di vista se il suo impiede sul sedile e si schiacciò il naso e schiacciò il naso contro il finestrino ma non fece in tempo a battere le palpe perché Hagrid era sparito a battere le palpe